ciao bentornato al programma tv di oggi con notizie come il compenso di paolo ciavarro per il suo ruolo a forum risulta davvero sorprendente ecco quanto guadagna il figlio d'arte il biondissimo paolo ciavarro compare quotidianamente sugli schermi di milioni di spettatori grazie alla sua partecipazione al format giudiziario forum in cui collabora dal 2016 con la conduttrice barbara palombelli l'avvenente figurante introduce in studio i giudici incaricati e commenta i casi proposti ogni giorno dalla produzione con garbo e pacatezza apportando un valore aggiunto al programma vanta inoltre celebri natali paolo è figlio dell'iconico massimo ciavarro e dell'attrice leonora giorgi e ha dovuto conquistarsi caparbiamente uno spazio nel mondo dello spettacolo come dichiarato ad oggi se raggiungo un obiettivo non è mai merito mio ma sempre perché sono figlio di anche su internet quanti insulti arrivano il suo esordio nel mondo della tv risale al 2013 anno in cui ha partecipato a fianco del padre nel reality on the road pechino express ha in seguito guadagnato un ruolo fisso a forum assieme al collega edoardo donna maria con cui ha stretto una solida amicizia entrambi hanno militato nel gfv seppura distanza di due anni l'uno dell'altro mentre il secondo è uscito da qualche mese dal loft di cine città massimo ciavarro ha partecipato al format nel 2020 classificandosi secondo dopo la vincitrice paola di benedetto nella casa più spiata d'italia ha inoltre incontrato l'amore allacciando una liaison romantica con l'influencer clizia in corvaia da cui ha avuto il figlio gabriele quanto guadagna paolo ciavarro a forum al termine del gfv paolo ciavarro ha riguadagnato il suo posto a forum inserendosi al contempo anche nel talent amici il giovane ha infatti condotto il daytime di amici dapprima al fianco di stefano de martino e marcello sacchetta accogliendo in seguito anche l'arrivo di lorella boccia considerando la sua esposizione costante sull'ammiraglia del biscione molti fan hanno ipotizzato che paolo ciavarro guadagni cifre astronomiche per il suo lavoro serrato in mediaset la madre eleonora giorgi però ha smentito ogni lazione durante la sua esperienza al gfv 3 edizione precedente a quella in cui ha partecipato il figlio paolo lavora con la palombelli a forum e con la de philippi ad amici poi siccome pagato pochissimo lavora in produzione fino alle 8 di sera ha riferito non è dato quindi conoscere con esattezza l'importo dei compensi elargiti al giovane figurante tanto più che occorrerebbe inoltre paragonarli al tenore del suo stile di vita abituale paolo ciavarro ecclizia in corvaia un amore nato sotto ai riflettori la coppia risulta amatissima dagli utenti in rete paolo ciavarro ecclizia in corvaia del resto cercano di aggiornare costantemente i rispettivi profili social a beneficio dei followers la bionda influencer però ha recentemente manifestato l'esigenza mitigare un po la sua sovraesposizione mediatica reclamando maggiore privacy in merito al suo rapporto con il compagno in effetti tutta italia assistito alla nascita della relazione e talvolta occorre anche un sano silenzio radar per apprezzare maggiormente le piccole sfaccettature della quotidianità grazie per aver guardato l'intero video la notizia è qui per finire mettete mi piace commentate in particolare cliccate iscriviti al canale per ricevere le ultime notizie ciao e ci vediamo nei prossimi video iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale grazie a tutti